Allora, non so cosa fare con la mia ragazza, abbiamo riscontrato sempre, come ripeto quasi in ogni video, tra le problematiche che ci vengono poste, ragazzi che interpellano lo psicologo oppure che interpellano figure importanti della medicina, comunque vanno a cercare nozioni su cosa fare il sabato sera con la propria fidanzata. Non sto scherzando, stiamo interpellando la medicina per capire come riempire il nostro tempo libero che, diciamo così, ha sue fatto dalla noia. Allora, c'è una regola di base su dove dovresti portarla, in che modo organizzarti per trovare cosa? Che regola hai? Allora, sinceramente se nel business devi essere organizzato a dir poco a livello biblico, quasi al minuto o al dieci minuti, sulla coppia io non sono molto d'accordo. Quello che faccio è questo. Io so che ho un po' di impegni nell'arco della settimana, perfetto, cerco di dividere gli impegni e di smaltirli il prima possibile, in modo tale che ho più tempo libero. Per esempio, su sette giorni devo fare sette corsi, non li faccio uno al giorno, ma cerco di farne uno e mezzo al giorno, in modo tale che riesco a smaltire tutta la mia agenda molto prima. Avanzo due giorni, tre, quattro, quelli che siano. Che cosa faccio con la mia fidanzata? Perché comunque sia la vita media di una persona, lavoro dal lunedì venerdì massimo fino al sabato, sabato sera si esce, pizza, si cena, gli amici, Netflix, divano. Ok, che cosa succede? Che alla lunga, a questo modo, diventa una routine e come vi posso garantire io, ogni routine a un certo punto verrà distrutta da qualcos'altro, da un evento inaspettato. La routine assolutamente non è il vostro piedistallo, non è assolutamente la vostra colonna portante del rapporto. So che è una bella zona di comfort, fa calduccio, si sta bene, si sta comodi tipo col plate, ma non va bene, dovete sforzarvi. Consiglio ragazzi, anzi vi do cinque, diciamo come ci sei sempre tu sì, dai cinque punti, vi do cinque punti. Allora, cosa fare? Innanzitutto, avete il sabato sera e la domenica libera? Molto bene. Cose costose e non costose? Molto semplicemente ragazzi, viaggia un giro in un museo, stop, semplicemente, uscite di casa, andate da culturalvi, entrate in una libreria storica della vostra città, andate in un museo storico della vostra città, non ce l'avete nella vostra città, andate in quello più vicino. Fatevi, diciamo così, ingrassate anche il cervello, non tenetelo solo impegnato, ipnotizzato con telefilme stronzate varie, cerchiamo anche di dargli del contenuto, del grasso bello, del pappa da mangiare, poi commentatelo, punto primo. Questo ha un costo anche abbastanza economico. Punto numero due, ho disposizioni di cash, cosa posso fare? Diciamo, posso permettermi un viaggio di due giorni? Ok, cosa faccio? A noi piace mangiare, siamo dello street food, ci piace tanto assaggiare, provare. Primo aereo, andate nella prima città, Napoli, oppure andatevene a Roma, oppure andatevene a Firenze se avete il treno, fate colazione in un'altra città, l'ho fatto con Valentina molto tempo fa, eravamo a metà, due anni fa, prima di avere la figlia. Faccio, vale, andiamo a fare colazione, dove andiamo? Andiamo a Roma. Siamo andati, abbiamo preso l'aereo, siamo andati a Roma, non abbiamo fatto colazione, abbiamo fatto cena, però siamo andati a Roma di punto in bianco, così, perché la sorpresa, la cosa inaspettata, alimenta molto di più invece la vostra relazione, ed è molto interessante come lei soprattutto sarà colpita della cosa, e ovviamente deve essere fatto insieme, nel senso, non dovete convincere nessuno, lì ci sono altri problemi, ma al limite ne parleremo in altri momenti. Punto numero tre, lasciate perdere l'IKEA, non andate a questo benedetto IKEA a sognare, che vi fate la casa, lo fate, lo so che è divertente, lo so che alla ragazza piace, si possono fare cose migliori, per esempio, iscrivetevi a un corso di cucina insieme, io l'ho fatto con diverse persone, siamo andati a corsi di cucina insieme, ci siamo bagnati le mani, abbiamo fatto sushi, abbiamo fatto qualunque cosa, ed è divertentissimo, divertentissimo, perché anche questo è un diverso modo di passare il tempo, che non è sempre davanti a un aperitivo, una sprizza, un telefilm, ricordatevi che anche le cose costruttive possono riempire la vostra giornata, mi ricordo che portai una ragazza che stavo conoscendo, un corso di pizzeria, in teglia, veramente è stata una delle giornate, penso, più riso di quell'anno, era il 2013 o 14, abbiamo fatto una quantità di pizza, è stato veramente divertentissimo. Punto numero 4. Nel senso che quando io organizzavo degli eventi simili, o facevo cose simili, dopo 3 o 4 giorni, mi chiedeva, e oggi cos'è organizzato di strano, di divertente? Questa è la domanda clou che posso garantire che stai facendo giusto, non c'è richiesta, non ti ribatte con, guarda ci ho pensato io oggi, ma non dicendotelo, ci ho pensato io per ringraziarti, ma ti dice, ci ho pensato io, perché l'ultima volta hai avuto un'idea un po' così, che tra l'altro ti posso garantire, Steve, lo garantisco a tutti, se voi vi sbattete, è quella la cosa che realmente importa, se voi pensate, fate qualcosa di diverso, già quello ha un impatto fortissimo sulla testa della persona, è chiaro che magari andare a vedere lombrichi, insomma, un allenamento di lombrichi, non sarà proprio il massimo. Bellissimi, stupendi, una storia stupenda. In un rapporto di 6 anni, non posso prendere l'aereo ogni settimana per andare a accionare? Certo, certo, ci mancherebbe, no, assolutamente, non prendiamo l'aereo nella maniera più assoluta, ci presentiamo sotto casa, con la bicicletta mia, una bicicletta da donna, vai, scendi, oggi andiamo in bici dall'altra parte della città, semplicissimo. Beh, ogni quanto proporre questo tipo di attività? Io guardo, tutto quello che è un po' la diversità, cerco di proporlo almeno una volta a settimana, per esempio adesso su Torino, anzi vicino a Torino, a Domodossola precisamente, comunque sul Piemonte, ci sarà un evento dove andiamo sicuramente di un treno che fa solo un giro sui boschi e va fino in Svizzera, ma passa solo sui boschi autunnali, quindi l'abbiamo visto, ogni città ha i suoi eventi, quindi io vi consiglio anche di fare ricerca sul web, perché a Torino c'è The Secret Torino, per esempio, e fanno vedere tantissimi eventi importanti, veramente belli, tipo i concerti a lume di candela, le cene sui tram, cena guardando la molla antonegliana, oppure passeggiata nel vecchio museo della CEC, c'è di tutto, veramente ci sono le cose che tu... La cena bendati. Come? La cena bendati. Che sì, 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 l'ho mai provata, no, non l'ho mai provata, l'ho mai provata. Io ho fatto una diversa che era microfonato la bocca per sentire la masticazione, doveva essere una cosa fantastica, in Spagna, però non mi sono emozionato così tanto. È stato veramente un topic liquido. Sostanzialmente hai 30 secondi, riassumi quindi quello che andrebbe fatto, sostanzialmente. Beh, innanzitutto ragazzi, non fatevi soggiogare da Sky TV, Netflix e i vari programmi che fanno sulla Mediaset, per favore cercate di bloccare queste ipnotiche. Così che avete davanti a questi schermi, davvero. Disattivate sempre... Come? E dico, lavoriamo sull'originalità. Esattamente, divase attivate anche, mettete in modalità aereo quella giornata che state con la vostra ragazza e state facendo qualcosa di diverso. So che tanti lavorano col telefono e ci costa, staccate anche quello. Non pensate solo allo svago, ma sappiate che lo svago può anche essere incorporato con cultura e con benessere fisico. Quindi, credetemi che possiamo unire tutto, uscire dalla routine e viverci il fidanzamento, il matrimonio in maniera molto più divertente. Grazie Giulio. Un piacere come sempre ragazzi, un piacere. Ciao. Ciao.